mi raccomando vi aspettiamo i numerosi perché ci troverete oggi a verissimo mi raccomando e noi invece di dormire ci guardia benissimo le quattro e mezza si va quella mamma è stata peracca dalla quadra sulla rai ciao ragazzi eccoci qui allora ragazzi se questo video vi piace mi raccomando sempre cliccate mi piace e scrivete un commento sotto a questo video qua noi ci vediamo al prossimo video da cino mancina è tutto ciao bella raga ciao